Il pacchetto maniatico bronzo dalla Mirce e i piangioni. Puntate nuove. Il numero fortunato è il 25 rosso, numero dispari alto appartenente alla prima colonna, terza d'ultima che rende sempre il punto di vista di schiesto, maniatico, pronto, per il punto di vista di un'altra, quindi puntate nuove, buona fortuna. Grazie. Grazie. Il numero fortunato è il 26 nero, pari alto appartenente alla seconda colonna, terza d'ultima che rende serie. Complimenti di Dario, Piova, Stradian Gioido, Redana e Maragà. Un numero fortunato è il 5 rosso. numero dispari basso, appartenente alla seconda colonna, prima coltina che è il 5 rosso. Complimenti al Silverbet, Pleier, Shanna, Shetabien, Piova, Stradian Giovas, punto di vista di un'altra, il buon carruvo. Sette al banco. 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 Grazie.